Anche Fratelli d'Italia si è pronunciata per il no, con noi Giuseppe Clemente, dirigente del movimento giovanile, dirigente a livello nazionale. Indubbiamente immagino soddisfatto. Beh, quando vi è un dato che ha visto milioni di cittadini partecipare a questa consultazione popolare, non può esserci che soddisfazione. La gente è tornata a dire la propria e quindi di questo siamo soprattutto soddisfatti. Non è una, ci tengo a dirlo, non la si deve limitare ad una vittoria dei partiti ma a una vittoria del popolo. I cittadini comuni hanno nuovamente voluto dire la propria e questo è senza dubbio un dato eccezionale per l'Italia. E poi per i partiti che ci hanno messo del loro declinando quelle che sono le esigenze e soprattutto facendo leva su quelle che erano le criticità di questa riforma che avrebbe riformato ben poco ma siamo salvi, pericolo scampato almeno per questa volta. Qualcuno ha detto che abbia vinto la Costituzione addirittura, non è forse scomodare un po' troppo. Beh, probabilmente dipende anche questo dai punti di vista. Senza dubbio molti italiani, chiamiamoli così, pigri, si sono appassionati alla nostra carta costituente e quindi ne usciamo tutti un po' più arricchiti anche a livello personale perché interessarsi a quella che è nella gerarchia delle fonti una cosa che ogni italiano dovrebbe sentire propria per adempiere a quelli che sono i doveri ma anche a tutela dei propri diritti è senza dubbio un risultato positivo. Siete tra le forze allineate come ad esempio noi con Salvini alla volontà di andare immediatamente alle urne oppure siete più orientati verso la posizione di Berlusconi che magari vorrebbe un attimo verificare la possibilità di una nuova maggioranza parlamentare? Io penso che gli esperimenti degli inciuci di Palazzo siano ampiamente falliti ed è sotto gli occhi di tutto quindi io penso che fatta salva la nostra Costituzione la sovranità del popolo e quindi bisognerà nuovamente tornare anzi nuovamente possiamo scherzarci su facciamo una cosa nuova ridiamo voce ai cittadini e andiamo a votare quelli che sono i nostri rappresentanti in Parlamento perché ci mancano dall'ultimo appunto governo Berlusconi visto che è l'ultimo vincitore delle elezioni nel 2013 non è poi riuscito a fare un governo e ci hanno insomma imposto il presidente dimissionario Renzi che ha mostrato poi tutti quelli che sono dal mio punto di vista dal nostro punto di vista i limiti di amministrare un paese in affanno e sicuramente per uscire da ciò c'è bisogno di coinvolgere il popolo che detiene la sovranità.